ciao a tutti ragazzi sono Luke e sono in compagnia di Kaledan a Kimbo Nanots bella a tutti e quella puttanella di Andrea che qua nasposta vada via chap ciao allora a Kimbo siamo in Techkit ti offro un po' l'arrosto ragazzi ragazzi cosa seria questo è un episodio serio importante che dà via a una nuova serie tra virgolette nella serie se Andrea smette di aprire chiudere le porte e ragazzi vedete questa è la nostra vecchia casa abbiamo deciso di andarcene vi facciamo vedere anche il motivo e il perché andate qua fuori io ragazzi mi sento non mi sento respirare che mi sento tutti addosso perché io dovrei fare impianti macchinari dove li faccio qui mi ha costruito un vent lì ha costruito un abbazzo di fronte c'è un castello che non finisce più l'unica cosa bella che avevo era la visuale del vulcano Andrea ha fatto la torre davanti al vulcano poi ho detto vabbè farò i macchinari magari qua davanti non lo so no perché surreal power ha costruito qua sotto per cui manco qui posso costruire ragazzi io mando a quel paese tutti quanti tutto giusto a casa anzi manco la butto giù io la regalo io a Kimbo e Keredan ci prendiamo tutta la nostra roba e facciamo il trasloco ma c'è ma mi abbattone così sì sì Andrea tu sei uno dei più ricchi del server ma scusa non ho fatto niente ma stai zitto intanto abbiamo gli zainetti ce la faremo in tre a fare un trasloco sì io la mia roba che devo prenderla l'ho già presa ragazzi c'ho un bucchio di ho fin troppa roba perché faccio parte dei grassoni però ho trovato un bel posto che c'è che c'è ok scusate rompo io i macchinari manu che c'ho l'attrezzico vuoi qualche diamante ok mi sono preso tutti gli attrezzi no non voglio niente da te Andrea guarda perché ce l'ho con voi io con te l'eternal love survival power tutta la gente ricca del server che hanno tolto il gusto di questa stupenda serie vero Robby beh abbastanza però però ho marciato parecchio anch'io con i miei condenser i miei relai e i miei diamanti quindi voglio rilassarmi un po' io sono all'episodio 25 c'è una formace elettrica in casa ma io sono all'episodio 26 e un poco di meno però Luke sta castellanza qui davanti sto cuore da glicemia 280 diabete garantito non li sopporto più infatti adesso noi ricominciamo una serie dentro la serie lontani da tutta questa gente malvagia che ci circonda comunque già il primo bug è avvenuto manu mi rimetti a terra per favore gli item che avevo nella borsetta sono scomparsi io ho dovuto mettere non sono scomparsi manu stai registrando la mia pc non hai i tuoi stat pirletta non te lo ricordo no ma ce l'hai no è impossibile che ce l'hai manu perché stai registrando quelli stati di Viviana eh manu mi metti a terra la crafting che devo fare le batterie ok però adesso non c'ho tin porca logia metti metto giù la transmutation e ti faccio io la tin chi è che ha preso la tin dalla cesta? io no vabbè fa niente ragazzi ce li facciamo all'energia ma si ce li facciamo io ho preso tutto ti prendo il letto mi frego il letto anch'io ragazzi mi porto una zucca va bene portalo per me grazie 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 eccolo grazie mille duke so che ti piacciono i vulcani giusto? si ok te la senti di fare 5 minuti di corsa? vai andiamo io sono proprio beh mi metti qua ti faccio dare un posto a Kimbo Kimbo Kimbiamo ciao no oh siete armati che è notte? cominciamo il trasloco guardate Andrea ragazzi che schifo che mi fa armatura in dark matter che schifo io mani quella di pelle sono riuscito a fare faccio la spada di ferro Luke beh io vai a capare devo ammettere ragazzi la dark matter se l'ho nello zaino l'ho tolta oh no sono precipitato seguitemi sempre dritto ragazzi sempre dritto non è difficile ma è un bel posto spianato no no allora soprattutto c'è un vulcane enorme quindi vedi se ti piace perché però io non voglio che Andrea veda dove siamo perché poi mi costruisce le torri di davanti si no allora ci sarà una regola ben precisa ragazzi eh un secondo che metti un waypoint se non li perdo eccolo qua è di là venite ah passate pure il ponte sempre dritto sempre dritto sempre dritto metteremo una regola che ne dite non fly zone non fly zone chi entra e chi passa viene ammazzato vabbè chi viene nel mio territorio muore ragazzi lo dico in questo video poi non voglio che nei video dove ammazzerò qualcuno mi diciate Luke mi è deluso Luke sei una merda io sto avvisando chi si avvicina alla mia zona sarà morto no fly zone no tre passer hai capito Andrea mi dai beh la ferrovia te la porto fino a lì insieme a Roma no la ferrovia la faccio io se salti in aria con la ferrovia non è colpa mia Andrea mi dispiace ma la licenza ferroviaria l'ho presa io infatti collegherò i due villaggi e saremo tutti felici beh io passo passo la sottoterra ragazzi ma scusa Andrea la facciamo assieme la ferrovia si ti voglio ancora bene ma Luke non mi vuole più bene no no mi fai schifa quanto vengo a per il vulcano raga? beh 120 metri ragazzi eccolo ho 4 creeper dove sono? eccolo io sto ammazzando tutto quello che vedo ma è un cornetto agile ma è doppio? no è unico è un cornetto bello mezzo al deserto porca trota c'è tutto c'è deserto acqua e lava e c'è la giungla poco distante ed è abbastanza piatto no? Manu Manu non andai trovando ah è darky in quello dietro di te io io direi di costruire qua Manu che ne dici? c'è un creeper dietro di noi e iniziamo a non fare buchi per favore vulcano Luke ok ho messo waypoint ah è un waypoint ragazzi waypoint subito subito casa ok io direi di farci subito una casetta al volo ragazzi senza pensare troppo alla bellezza per cui legno in mano senza legno siamo buono eh mi passi un attimo la borsa che ti cago tutti gli ete eh che schifo suona di pancia vai io faccio un bagnetto intanto no mi devi passare un attimo la tua borsetta perché la mia è sparita magicamente con quel bug e la mia è piena no è tanto ho deciso i miei eti un po' è dentro ah già eh eh ah già eh dite sì sì cosa serve dite cosa serve beh cosa ti serve lui dimmi eh tanto legno ok aspettate che ti rido la tua che la mia l'ho ritrovata quanto legno vuoi? di che colore? eh legno normale che voglio o la sandstone? bianco, marrone, marroncino quello chiaro che voglio la sandstone? o quello scuro uguale non volete voi ragazzi basta mettere il legno io ho solo sandstone wooden plank bianco ma cacchio salgo da qua ma andrei ma te ne vai a casa tu a farti i tuoi diamantucci e non ce li ho in borsa youk sono qui eh ti lanci il legno ma non mi ha la mano a spianare almeno qua legno, legno due colori diversi serve altro? no tanto dovremmo avere anche la tasmutation table dietro con noi per cui io l'ho montata qua sopra al volo ragazzi grazie grazie mano fra legna sono tutta io dammi la mano a spianare almeno questo pezzo manu aspettate che mi faccio una par ma no i ragazzi è a Kimbra a casa mia a registrare tranquilli a questa altezza Luke facciamo? eh sì più o meno sì intanto devo fare una casetta al volo e poi inizio a mettere giù a terra il query per oggi ah Luke è tutto ciao a tutti no scusate ce la farò salire in cima ciao Luke mi vedi? perché ho in mente un bel po' di idee ragazzi tra impianti e stronzate che devo farla centrale nucleare allora ah Luke poi se non ti spiacerà io farò la ferrovia come anticipato quindi i due posti saranno collegati così ok ma non mi interessi della te ah no niente mi ha messo la crafting table bene eh ma non c'è legno porca logia come non c'è legno? ce l'ho io e ce l'ho 200 pezzi li ho lanciati ma io ce l'ho in legno ve l'ho detto che ce l'avevo in legno 2500 pezzi ti ho lanciati benissimo mmm cosa facciamo con questa red matter? ma che cavolo sto combinando? ma porca di quella trota mmm io sto facendo il ninja sono troppo pieno chiedi c'ho qualche cesto da fare non abbiamo una cesta no io c'ho una cesta Luke guarda su parvucano ciao allora beh mi libero un attimo ah do mettere giù il letto prima che eccolo là ma come si diverte ma come si diverte Andrea mi rovini qualcosa ti metto un query sulla casa io ti avviso ormai mi fanno sano che non scherzo si si aspetta che scendo ragazzi io ok salvo un attimo il white point perfetto qui se muoio manu manu israeliti sul letto poi ti alzi subito si ma con questa coraccia sono un ninja vabbè il ninja dei miei cocomeri oggi si sono cattivo ragazzi sono cattivo perché abbiamo deciso si ma sempre abbiamo deciso scusami Andrea una cosa seria eh abbiamo deciso in questa serie di prendere ciascuno di noi un determinato ruolo che scoprirete più avanti che tipo di ruoli si tratta magari ci sarà il mago ci sarà il il pazzoide che quello mi sa tanto che lo farò io quello che non calpestate le piedi perché si inchiezza ci sarà il tramviere il tramviere sarà Keledan che costruirà esatto tutti i rompianti di filoviari e rompimaroni Andrea e rompimaroni Andrea ma vuoi che dà due botte di Catalyst cavolo è vero ma Andrea ma dirlo prima ci davi una mano urgente sei venuto qua a non fare niente dimmi dove ti do due botte eh spianami spianami qua guarda dove? guarda ti faccio il segno vieni un attimo qua con me si dove sei? qua questa è l'altezza qua butta giù tutto occhio alle ceste e il letto per favore oh no ma guarda qua già noi a sclerare ragazzi non ci credo quanto devi fare caro Luke? eh butta giù quella montagnetta Andrea qua basta per me si ma ce l'ha anche Roby eh guarda no Roby ma non in giù in su ma tocca smarrato no attento Luke devo sforcerti ecco no io non sono capace di usare questa cosa ragazzi eh ma lo usare che è meglio guarda leviamolo dall'inventario va? lascelo stare così va va bene ancora? le va bene oh basta basta va bene ragazzi chi è che devi cercare qualche torcia in giro giusto per i mob? io inizio a fare la casetta c'è un tuo amico qua Luke siete contenti? cosa faccio? lo faccio saltare? ma usiamo il legno caro lui non con lo scuro aspetta che te lo passo eh ma arriviamo poco eh ma arriviamo poco no che cazzo oh va che ti tiro una palata 4 eh allora ho un'idea per l'illuminazione caro Luke tu prendilo tutto prima che scompare arrivo eh qua c'ho il mouse mezzo seto ma questo? via manu mi metti a fare del vetro per favore voglio a me che dovrei avere una tasmute centevole voglio uscire per fare più in fretta guarda che la tiro fuori allora la tasmute centevole è da sopra? no ce l'ho io sono la nostra quella che avevamo in casa oh ragazzi vieni l'alba Luke ti faccio il circondario di blocchi di glosto ecco il problema è che io non ho più il mio claim star meglio 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 ce li facciamo con calma manu no per prendere il vetro ma cos'hai? c'è un altro vulcano di qua? si ma ti fai da fararci i twitoni a casa tua a farti i diamanti? ma no tanto si manda solo si alla fiera dell'est 64 di vetro basta no? eh si credo si ah si prendo un altro stack ok no vabbè basta manu tanto fai i paletti ne vengono 16 a ogni 6 faccio i paletti? eh si i paletti i cosi lì e i vetrini si bravo allora mi servirebbe del legno puro puro abbiamo questo qui potrebbe andare ma c'è il trasvorto cosa? ti bastano 4 stack da 64? non c'è del scusa manu che sto cercando di scogitare qualcosa di strano ti bastano 64 stack da 4 stack da 64 ma che cazzo stai dicendo? ma che cazzo non è il suo si diverte così vuoi un herb energy condenser Luke? un herb magique? cos'è che hai detto? un energy condenser non vuole niente da te da te proprio mi manca una bistecca voglio piuttosto muoio manna glielo per raccomandata che se non lo capisce va bene va bene ti faccio un regalo una caramella no ti ho messo un regalo Kimbo occhio a quello che fai dietro di te no 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 dove dov'entri i vetri Lu? eh aspetta aspetta tantino lì che adesso arrivo sto vedendo come cavolo fare la forma strana va bene va bene va bene 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 allora ci siamo più o meno l'altro è qua è qua no ho sentito il rumore strano uè non fate rumore strani eh hai fatto la puzzetta Bimbo 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 è morto no ha finito il legno adesso porca logia si è che ha rotto il legno sotto in più? Manu non ti sento eh è scomparso Akimbo Manu non ti sento tanto a casa mia ragazzi Akimbo forza oh yeah ci sono perché non parla? avu è introverso è timido oh yeah ecco qua basta ma la bimba allora 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 finiamo qui chi cazzo ha messo la TNT? e chi può essere se non Andrea non c'è Andrea ti metto il query sulla casa guarda che non sto scherzando no no io non riderei fossi in te guarda non riderei affattico eh? cosa è successo? Roby 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 lo banni per favore Andrea Andrea guarda quanti blocchi di diamante ci sta mettendo per farci rosicare eh fottili tutti va posto toh quante ne vuoi? Andrea mi sembra che devo controllarti se stai usando la creative eh se ti scopri in cheat mode no 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 sarai l'unico bannato dal proprio server nella storia di Minecraft tanti a tre diamanti bastano Lu? no li dai gli rimano non voglio niente da quello e no scusa ma come le caga? pla 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 ah Kimbo mi hai tolto un legno qua no no non li ho messi tutti e come faccio a mettere il legno? non ho più io porca loggia non c'è una giungla? aspetta che forse toh 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 legno no non vuole niente da te manco il legno tieni il legno ma via via usa via manu allora mettimi il vetro qui qui e qui per l'entrata diciamo ecco qua ho fatto luce e torce lavoro di alta finanza vediamo un po' come fare il contorno sopra il contorno sopra? se vi fa schifo ditelo ah mi sembra carina io penso di farla in mattoni comunque no ma tanto questa è provvisoria Robby per cominciare benissimo allora diciamo il nostro ufficio che tanto poi io farò sarò il tecnico del server per cui mi baserò solo a impianti e cavolate varie l'ufficio l'ufficio del capocantiere ragazzi è entrato un rent uccidetelo guardalo come crea vai andrea attacca no no aspetta sto facendo una cosa no se le sono cadute più sto facendo un paio di diamanti un paio di cose più come a me continua a dirmi che con la la pietra filosofale schiacci la x e accedi all'inchianti lascia stare a me un anno che sono su youtube e un anno che me lo dicono ma non hanno capito che a noi non ci piacciono quei tipi di bug ma è un cheat è un bug strano che ti fa potenziare tutte le armi così gratis a manetta a parte che a me neanche mi si apre schiacciando x ma non me ne frega niente scusa se devo imbrogliare giocando a giochino tanto vale tanto vale usiamo la creative e siamo a posto ma mi sembra proprio una cretinata che fai Kimbo? fai la scacchiera? yeah pom non c'è un po' di tempo ma che casa ma che casa da professori guarda qui che labbo rand left the game ha sentito che lo avevamo uccidere scappato oh non devo sbagliare i buchi andrea cosa fai di bello lì? eh spera lascia lascia piaci sì 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 sperate lui è presente un lurker chi? no arriva l'urker andrea ma noi non vogliamo una mano tu c'hai la tua torre ma io sto cazzeggiando ah ok beh sappi che appena ci sarà il recinto chi cazzeggia qua sarà ma che casa del cazzo è nuda? sarà fatto ehm a Kimbo si è perso un colpo nella quadrettatura mi sa sì mi sa che c'è un quadretto fuori posto mi sembra che c'è un effetto strano a Kimbo adesso sistemiamo e questi li lasciamo di terra scusi? no 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 poi cambiamo poi si capisce che si al terrono ah 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 cambiamola a terra con legno e tu si terrono io sono in mission del nord ah Roby 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 perdonami guarda nella direzione dove guardo io me lo banni e qualcunoผlli guarda nella direzione dove guardiam andare da Ah 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 e guarda nella direzione dove guardiam me alla direzione perché aguenta il mig języ Anze�